e ciao amici di youtube benvenuti in un nuovo video di zio svapo come vedete è cambiata la postazione ci avete fatto caso sì in effetti è cambiata la postazione ma per i più attenti avrete notato che è cambiato anche la videocamera infatti non ho più la panasonic g80 perché l'ho venduta per acquistare la gopro hero 10 black voi direte perché è stato questa gopro perché voglio cambiare anche i contenuti non solo la postazione la videocamera ma anche i contenuti voglio proprio cambiare voglio portare dei contenuti più creativi e quindi la scelta della gopro è perché voglio posizionarla nella moto oppure sopra il casco o magari in un'asta selfie quando faccio qualche immersione o quando vado a fare un po di tracking quindi portare dei contenuti più creativi più dinamici più action ed è per questo che infatti è la scelta della gopro la cadenza della pubblicazione di video è chiaro che non potrà essere settimanale perché comunque come vedete la mia postazione di lavoro è questa e quindi quando riesco a organizzarmi ed uscire e a fare qualche escursione o con la moto insieme alle frecce del borgo oppure quando posso andare a fare qualche girata bella posso produrre contenuti di quel tipo infatti la rubrica si intitola zio cinematic questa era l'idea fulminante era questa e la gopro so benissimo che non è nata per essere così statica all'interno di uno studio ma ce la faremo piacere insomma ecco in qualche modo cercheremo di trovare il setup giusto ma mi vedrete appunto in questa posizione per fare qualche recensione ad esempio che ne so potremmo recensire anche il gopro volta che questo oggettino qua che è fantastico per chi non conosce cos'è il gopro volta chiedete nei commenti e vi sarà descritto vi sarà presentato ed è un oggetto fantastico perché è un treppiede un power bank un telecomando e funge anche da telecomando per poter spengere e accendere e comandare un po anche la gopro quindi è fondamentale per chi fa vlog con la gopro e ma non è solo questo che è fondamentale poi ci sono anche altre mod da poter acquistare accessori da poter acquistare con la gopro e poi magari se volete qualche video più approfondito sulla gopro sul perché acquistato la gopro e che tipo di offerta ho voluto prendere appunto con la gopro chiedetemelo nei commenti e magari farò qualche video appunto che spiega dove ho acquistato la gopro quale è stata l'offerta quale tipo di abbonamento quale tipo di accessori ho acquistato insieme alla gopro e se mi fa piacere mi farebbe piacere potervi rispondere ai vostri commenti detto questo che altro devo dire basta non vedevo l'ora di tornare con dei video più divertenti più creativi il canale rimarrà invariato com'è ma voglio portare contenuti più creativi detto questo vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao